Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Questo sarà un video breve giusto per illustrarvi come registro i miei video su questo canale Sia in ambientazioni come questa, sia in ambientazioni esterne Ma partiamo subito dopo la sigla Allora sì, come vi stavo dicendo oggi parleremo di come registro i miei video E di conseguenza anche come li edito i miei video Quindi vedremo anche alcune applicazioni, magari alcuni consigli che vi posso dare da questo punto di vista Io sono come sapete un neofita, ho iniziato da ormai qualche mese Ma comunque andiamo, andiamo molto bene Il numero sta salendo dei iscritti, anche le visualizzazioni stanno salendo Ma mi raccomando iscrivetevi al canale perché solamente il 3% di voi è iscritto Il 97% no, non vi potete fare questa cosa signori Quindi per favore iscriviti al canale per supportarmi E detto questo continuiamo il video Allora per quanto riguarda le ambientazioni interne Utilizzo principalmente questo tipo di setup Ovvero il mio iPhone che mi sta appena riprendendo Su un treppiede E specialmente questo In certi casi anche se devo fare delle inquadrature dall'alto Utilizzo anche la webcam che c'è qui sopra Oppure addirittura il mio secondo iPhone che ho qui In certi casi, proprio se nei casi in cui la GoPro è carica Perché assolutamente questi casi sono davvero molto molto rari Utilizzo anche lei per far rimanere le inquadrature laterali Ma come vedete anche dai miei video comunque ce ne sono veramente poche Magari anche quei semplici video in cui devo riprendere dal da vicino Posso utilizzare anche la GoPro Però comunque in casa personalmente È questa l'ambientazione che gli do Quindi quella con l'iPhone Per quanto riguarda invece le ambientazioni esterne Porto sempre con me il mio iPhone Insieme a questo Che è uno stabilizzatore di DJI L'Osmo Mobile 3 Sì è un po' vecchio Dovrei forse cambiarlo Ma va bene Quindi non ne vedo il motivo Insieme a lui mi porto anche sempre un treppiedi molto piccolo Sempre per poggiare il telefono da qualche parte O fare qualche timelapse e così via E invece Ed è quasi d'obbligo forse portarsi anche le GoPro Quindi le mie due GoPro Che mi aiutano anche nelle varie riprese che devo fare Ora Sul canale sono usciti pochissimi video con ambientazioni esterne Ma più in là Più o meno verso l'estate Già a partire da maggio Vi porterò qualche video in esterna Qualche video esperienza vlog Che forse potrebbe piacere Anzi farmi sapere su un commento se ti potrebbe piacere un'esperienza vlog Comunque io le porterò comunque In estate Andrò in vacanza Passiamo ora a come edito i miei video Allora i file passano dal mio iPhone Tramite AirDrop al mio computer Che c'è appunto i file Che sono organizzati tutte quante In un'unica cartella Come potete vedere qui Qui abbiamo tutto un altro materiale Quindi i loghi e tutte le cose così E poi abbiamo anche i file video In questo caso i file video delle HyperX Cloud Che se non avete visto quel video Ve lo lascio qui sopra in scherza Ma mi raccomando andatevelo a vedere E qui di solito aggiungo il materiale appunto Che registra il mio iPhone O comunque tutti gli altri materiali Delle vari dispositivi appunto che riprendono Un'unica cartella davvero molto molto interessante Perché appunto ci aiuta a organizzare tutto quanto Nel modo migliore Per editare Molto molto tempo fa Utilizzavo iMovie La buona neofita Ma circa qualche minuto fa Mi sono trasferito a Final Cut Pro Che vi devo dire È davvero davvero fantastico È molto molto semplice È molto veloce E fa tutto quello che devo fare Quindi non vedo il motivo di doverlo cambiare Sono le ore 17 Va bene sì Scusate Andiamo bene Proprio bene Allora Invece qui abbiamo anche Un'altra applicazione Da Vinci Resolve Che è un'applicazione gratuita Che potrebbe essere utile per molti Se devono montare anche dei semplici video vacanza Puoi montare qualsiasi tipo di video Ma che non vogliono comprare Final Cut O vogliono usare iMovie Perché è troppo semplice Da Vinci Resolve davvero È davvero È un'applicazione fantastica Vi permette di lavorare in 3D Vi permette di lavorare Su progetti comunque molto molto complessi Non è velocissimo come Final Cut Ma davvero molto meglio ottimizzato Rispetto a Premiere Pro Che invece da questo punto di vista Fa un po' Lascia un po' il tempo che trova Per quanto riguarda invece Gli effetti che voi vedete Come quelli che mi mostro Come iscriviti al canale O seguimi su Instagram Li ho realizzati con After Effects E voi direte Allora a questo punto non è MyVuzyMotion Sì l'ho installato Lo sto imparando E però è molto complesso Come After Effects Che comunque non hanno E comunque non hanno Un sistema proprio così simile Sì alcune cose sì Alcune cose no Ma comunque ci vuole il suo tempo per impararlo Ma ci sto lavorando su questo Una volta elaborato il video Il video appunto viene processato Viene elaborato Il programma E nel frattempo appunto realizzo La mia copiattina E poi appunto successivamente lo pubblico In certi casi sempre Nello stesso periodo in cui Di soggiorno in cui Delizzo il mio video E ci sono anche un breve reel Di risultivo Per voi Che state seguendo Questo canale Per attirare a molta più gente Perché appunto I reel I short di YouTube Sono davvero davvero fantastici Per quanto riguarda Le visualizzazioni Perché sono quelli Che ti portano Veramente a un altro livello Si è persa un po' In questo periodo La voglia di video lunghi La voglia di spiegazioni E si sta andando sempre Su più Su video brevi Su TikTok Che secondo me Sì Sono molto Molto Diciamo Non utili Ma molto carini Perché hai poco tempo Quindi ti metti a sfogliare Un attimo Questi video brevi E comunque Hai il tuo contenuto Ma Ma Ovviamente sono video brevi Non può dare Non ti possono dare Quello che ti può dare Un video lungo Possono fargli L'introduzione Quello sì Ma niente di più Detto questo Noi ci vediamo Con un prossimo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lascia like qui sotto E anche un commento Se vuoi Per farmi sapere Se questo video Ti è piaciuto Noi ci vediamo Al prossimo video E ciao ragazzi